Sosseo Reimane, Cristofo Samarcili e a sua squadra su Guagibronti, a parte per abrimarmo la stagione. E' giusto per entrare al centro di noi e la nostra carcigliata. Prima d'app, Pia Azoaretta è sceglie Usogantu, quegli agari o imposta. Per l'abertura è un cielo tanto lontano, non c'è bisogno a martir assai. L'abertura si chiama Awani, che è davanti a noi qui. E i ganaglioli hanno fatto casa e il resto, c'è tre equipe di grande, questa manca piazza, quando mi conoscano tutto. I segnali sono entro, vedremo tutto il risultato. Pekuele che sono imposta, ferma una cosa fa, aspettà e tenesse pronto, senza mai scordare il più importante e la segurità. Mai faccio la carciglia, dove andava tutta, dove rito. E' la nostra carciglia. Rimo mica anche la segurità. Sempre c'è stata così nella nostra equipa, ma non c'è mai accaduto nulla per questo. Stamane c'è un leoncino tanto, si va genuè risolto qualche burketti ma poi a squadra, non è ciò che conta più. E' geniali, la modrui gli stessi. A chi se scoccia di sotto, a chi se scoccia di sotto, ma... Uno la modano, ma c'è abbastanza lì. Poi genuè, l'abertura, io vedo ciò che conta. L'amici, gli amici, andrà mia prossima volta. Ultima dà, fa spila oggi, le espiraghe li saranno più numerosi, l'animale a prossima mossa. Grazie a tutti.